Buongiorno, oggi è il 4 giugno. Alexa, volume al massimo! Hai tirato ancora le tre a giocare su con quel coso? Non cerchi di capirmi, mi rompi le palle. Cos'hai su quella mano? Sei ancora scappata dalla finestra. Non siete proprio capaci a fare i genitori. Tina! Ma non vedi, un attimo. Vedo, vedo. Questi saranno in grado di esaudire ogni vostro desiderio. Lo sai che facciamo 18 anni, sì. Siamo rimasti svegli tutta la notte. Anna, allarmante incendio. Ma che sei? Ma che ti passi? Che come assomiglia a Coco? Eh, Coco. Ma che ci fai qui? Ma ti rendi conto di quello che c'è in casa? Mamma, ho 18 anni, vaffanculo. Non ce li hai ancora 18 anni! Io ti odio! Mi hai rovinato pure il giorno più importante della mia vita! Lo sa che abbiamo sbagliato secondo te? Niente. Sarebbe bello se tornassero piccoli. Nico, Coccodè, sono la mamma? Tina! Svergognati! Anna! Sono loro. Ma non capisco come sia possibile sta cosa. Prima della mezzanotte, i ragazzi erano due adolescenti sterici. Sì. Le cattine! Avete quello che volete! Non siete contenti! E a me le cose contro natura mettono ansia. Tina! Ma perché Tina è cresciuta improvvisamente? Ma soprattutto perché Nico non è cresciuto per niente. Nico ti ha vista? Me l'ha detto lui. Sono venuta qui per esprimere un desiderio. Ha vinto! Ha vinto! Per cancellare il mellore che ho fatto. Grazie a tutti.